390 milioni di euro e questo è il volume d'affari generato nel 2018 in Sardegna dalle detrazioni per ristrutturazione ed ecobonus, investimenti che hanno avuto una ricaduta immediata sul comparto edilizio impegnando il 13% della forza lavoro, circa 5.000 addetti su un totale di 40.000 e quanto emerge da una ricerca dell'ufficio studi confartigianato Sardegna che ha elaborato i dati del Ministero dell'Economia e Finanza e dell'Istat sulle dichiarazioni redditi 2018. L'isola si colloca al 14esimo posto per quanto riguarda la percentuale di occupati che derivano dagli investimenti incentivati. Al primo posto il Friuli Venezia Giulia con il 32,6% degli addetti, a seguire le Marche con il 27,7% e la provincia di Trento con il 27,5%. In totale a livello nazionale i posti di lavoro diretti creati attraverso gli incentivi nel 2018 sono 238.000 pari al 16,8% dell'occupazione. La confartigianato ricorda che la legge di bilancio 2019 ha confermato alcuni incentivi molto apprezzati da utenti e imprese, da quello per la riqualificazione energetica degli edifici, alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, alle agevolazioni per la cura del verde. La conferma delle detrazioni per il sistema casa rappresenta un intervento essenziale per sostenere un settore che più di altri ha subito gli effetti di due cicli recessivi in dieci anni, ha rilevato Giacomo Meloni, presidente del confartigianato edilizia Sardegna. La strada a seguire è quella di superare le continue proroghe, rendere permanente strutturali bonus casa. Si tratta di un pacchetto che in questi anni sottolinea l'associazione a dato più lavoro per le imprese di costruzione, arredamento e manutenzione del verde, facendo emergere le attività irregolari, tutelando l'ambiente e consentendo un risparmio alle famiglie.